Rosa, sei pronto? Sei pronto Matteo? Prontissimo! Vai! C'ha fatto su se? C'ha fatto su se? Pronto, guarda il giro che è quasi pronto! Eh! Chordos! Chordos! Spagna CDU Ciao! Mai Cryo! Uno! Invisione! Autonения! Un Chapo di Lav χan galaxy Un 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Alla prossima Bravo Muori Qua è Qua è Qua è Buona 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 1 a 1 Ma che piglio 7 a 6 grazie 1-1-1 1-1-1 1-2 5-4 2-2 2-3 2-5 2-4 2-5 2-5 Oggi tutto registrato Semplice 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 Vengila Bella Balla 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 Oh oh! Pena, pena. Vai GOL, la Pena! No! No, no! No! Non è vero quello che finisce! Oh! 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 Sì, Sì, Sì. 1, 2, 1 Non dista palla 3, 2, 2 Giacomini Vai vai Giacomini Ora, ora 4, 2 4, 2 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.